Musica Protagoniste le donne nella dodicesima edizione del Festival del Giornalismo Culturale di Urbino. Si terrà dal 4 al 6 ottobre ed è organizzato dall'Istituto per la Formazione al Giornalismo e dall'Università di Urbino in collaborazione con la Galleria Nazionale delle Marche e con il patrocinio della Regione. Sicuramente questo è un momento di riconoscimento del grande lavoro che viene fatto dalla Scuola di Giornalismo di Urbino insieme all'Università della città dove la Regione Marche ha dato il suo patrocinio. Quest'anno mi fa piacere che protagoniste siano le donne all'interno di questo festival dove sicuramente l'aspetto femminile, quindi il ruolo della donna in ambito giornalistico oggi sta prendendo sempre di più spazio e sicuramente le donne hanno una sensibilità particolare soprattutto verso alcuni temi e sono sicura che riusciranno insomma ad apportare al tema dell'informazione elementi sempre più preziosi. E' proprio la formazione a fare la differenza nel mondo del giornalismo sempre più minacciato da fake news anche per superare il gap legato alla discriminazione di genere. Infatti il tema al centro dell'edizione 2024 è Protagoniste, lo sguardo femminile nel giornalismo culturale. Deve essere un giornalismo più vicino alla realtà, più vicino alla realtà dove viene valorizzato il contributo che le donne danno alla società, alla cultura, all'economia e credo che mettere l'accento su questo tema sia sicuramente un aspetto importante del festival di quest'anno. Nella tre giorni di Urbino viaggio sull'evoluzione della presenza femminile nel giornalismo e sul ruolo nell'informazione culturale che hanno ricoperto le donne di ieri e di oggi. Le donne hanno un sentimento maggiore di rispetto nei confronti di quello che accade e anche un modo di raccontare più vicino alla gente, alle persone pur nella loro correttezza e coerenza, quindi gli aspetti deontologici vengono molto rappresentati. Io credo che il femminile sia assolutamente importante, lo sguardo femminile sia nella cronaca che nella cultura, nel mondo dell'informazione genericamente intesa. Da venerdì 4 ottobre l'appuntamento è tra Palazzo Bonaventura e Palazzo Ducale. Spazio al premio Fenice Conai dedicato al giornalismo ambientale giovane. Sabato 5 ottobre l'Alexio Magistralis della vincitrice del premio Strega 2024 Donatella di Pietrantonio e l'intervista di Giorgio Zanchini all'ex direttrice TG1 e presidente RAI Monica Maggioni. Domenica 6 ottobre focus sulle donne nel cinema e nelle serie TV, oltre che sulle figure delle editrici. Il weekend di Urbino sarà preceduto da altri appuntamenti del Festival Off, sempre nella città Ducale, mentre mercoledì 16 e 17 ottobre il festival si sposterà a San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno.